Un convegno di studi promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e dall'Associazione Casa della Resistenza di Verbagna a Fondo Toce si è svolto il 20 ottobre nella Casa della Resistenza a Fondo Toce. Il titolo? Gianfranco Contini, fra impegno politico, resistenza e rinnovamento della cultura italiana. La prima sessione del convegno, tra l'Ossola e la Svizzera, è stata aperta dagli interventi dei Presidenti del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, della provincia Massimo Nobili, ed Irene Magistrini della Casa della Resistenza di Fondo Toce. Nel pomeriggio la seconda sessione Filologia e impegno civile.